Ora di Piazza Affari parliamo in questo caso anche per un altro motivo, perché per due ore, dalle 15.30 alle 17.30, quindi non ho capito la ricaduta, non ho capito veramente, però è iniziato lo sciopero a Piazza Affari per dei dipendenti del gruppo e delle società del gruppo, quindi MTS, Casa di Compensazione Grazia, Montetitoli, è la prima volta nella storia di Piazza Affari che c'è uno sciopero. Non sono, infatti non li vediamo, previsti di servizi sull'operatività dei mercati, perché è stato dichiarato lo sciopero, è stato aperto da rappresentanti sindacali che mercoledì 3 luglio sono state convocate dal ministro dei Medi in Italy Adolfo Urso per denunciare quello che allora avvisano svuotamento di competenze della realtà del gruppo all'interno di Euronext e quindi loro accusano soprattutto lo svuotamento di competenze a favore di Parigi. Essendo il primo sciopero mi sembra anche importante ricordarlo per due ore, ti ripeto, l'operatività non è stata toccata.